Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Ragazzi, ho cambiato orari perché è anche il mese di agosto e quindi mi voglio fare qualche bagnetto e anche perché la preparazione della maratona mi comporta ulteriormente il pomeriggio di far dedicare anche alla casa. Sistemare la casa e quindi mi sono cambiato orari che stream dalle 9-10 di mattina fino al pomeriggio 6-7-5 anche e quindi gli orari di adesso sono questi. Quindi non mi domandate sempre le stesse cose e quindi buona live. Ah! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Oh! 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 Mamma mia! Mamma mia! Oh! Oddio! Oddio! Oh! Oh! Andrè a tua canna! Vedo la mia cina qua giù! Magine, andrè a buon! Guardaci! Ci puoi vedere Andrea? Chi siamo? Mi racconti come un pesce. Dico, pesce! Non c'è! Oh! C'è il pesce! Guarda chi legge Nara! Oh! Hai spento? È piato! Ho spiegato! e ai zia i zia i zia i zia i zia i zia i dati porta line porto line porto in mi sembra che gli accordi erano chiari orari non è mamma ore, non ci stiamo, non ci sta chiunque ciao me vado un pochino viiamo me vado un pochino ehi 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 ehi, ne cosa sei inglesi Cosa sui? Così così affreccano, basta. Da pesce. Maschka, dai c'è arrivata. Ma perchè sei arrivata alla basca? E perchè ti ha dato il film. Guarda che è arrivata a Mondraone. Non ti ha dato il film. Mannaggia, mi sei arrivata. Vai, Ricci. È un gigante, è un gigante, è un gigante. ma io potete fare uno screen e creare dei meme su questa scena guarda un po verso il traghetto gina un po poetico ragazzi fate dei screen su questa cosa e poi voglio tante voglio tutti i tag su instagram prof. di gennaro stanno andando stanno andando stanno andando ma non ti preoccupare quella si potrebbe fare quindi piano piano se questo format ha che si porta una volta a settimana altra settimana io poi sponsoriva la benzina che paga perché alla fine sembra andiamo avanti dietro se benzina c'erano cosa cura zio pago così almeno lui a pare che cosa sono io sto soffro però una cosa è che compartiamo l'importante è sempre divertirci che la chat si diverte più attrezzati così non si può a ragazzi questo piano gesù cristo chiudi la frizione quando lanci chiudi la frizione quando lanci io ho io 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 no tu sei no 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 tu no 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 Non lo so, hai capito? Non lo so, le labi di sera! Non le voglio fare, hai capito? Non lo so, è un tuo cazzo, non lo so, hai capito? Non lo so, è un tuo cazzo, sì lo so, mamma mia, porco Dio! Non lo so, non lo so, non lo so! Mamma mia! È un tuo cazzo, non mi faccio tutto qua! Andate la puttane mamma! Andate la puttane mamma! Grazie a tutti.